Diamo un'occhiata alla nostra macchina BigShot Pro. Quindi, cosa abbiamo con la nostra macchina? Abbiamo due Mylar Shims, un tappetino adattatore BigShot Pro, una placca da taglio ed anche un tappetino da piega. In pratica, tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare. La cosa fantastica di questa macchina è che ha un'apertura di 33 cm, il che permette l'uso delle fustelle 12x12 Pro. La cosa fantastica di queste fustelle è che vi permette di creare reti tridimensionali, pagine di scrapbook e potete usare la gamma per quilting. Con la BigShot Pro potete anche usare l'intera libreria di prodotti SeedsX. Quindi potete usare i nostri Emboss Lits, i Seeds Lits, i Textureed Impressions Embossing Folders, le nostre fustelle in acciaio e le fustelle Framelits. Per utilizzare tutte queste diverse tecnologie, potreste aver bisogno dell'assistenza di BigShot Pro Solo Platform & Shim, con tappetino adattatore. Ora vi mostrerò come usare la fustella BigShot Pro 12x12. Nella mia vaschetta ho le due Mylar Shims, il tappetino adattatore BigShot Pro, una placca da taglio, la fustella Pro, con lama rivolta verso l'alto, del cartoncino e infine il tappetino da piega. Lo faccio passare nella macchina. E adesso vado a rivelare delle forme perfettamente tagliate con tanto di piegature per realizzare delle graziose, semplici e veloci forme a rete. Per ulteriori idee simili a cui ispirarvi, visitate sidzx.co.uk barra 101. per ulteriori idee simili ariqueza di algoritmo. sanicina comunità schi